Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dall'A1 dove a causa di un incidente si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in A1 si ricorda che fino alle 18 di domani, 25 marzo, a causa di lavori rimarranno chiusi i tratti tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla FIPI lì dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Ponte d'Eraest e la Diramazione e Pisa Livorno in direzione Mare. Sul raccordo Sena-Bettolle è chiuso per lavori lo svincolo di Taverne d'Arbia in entrata e in uscita verso Bettolle. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze e possibili disagi in Piazza Dalmazia a causa di un incidente avvenuto all'intersezione con via Filippo Mariti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!